Ci sono circa 90 gatti qui presenti oggi al gattile sanitario oasi felina di strada Pontevale. Il gattile sanitario di Pesaro che in alcuni momenti dell'anno arriva anche a 120 felini ospitati quando arrivano anche i neonati, i cuccioli nella struttura. Una popolazione felina che ha però un futuro incerto perché il 30 aprile scade la ventennale gestione dell'associazione animale, associazione di volontariato che dal 2001 si occupa di questo luogo. Il futuro però è incerto, dal 1 maggio non si sa bene quello che succederà. C'è in ballo un passaggio di gestione dal comune di Pesaro all'Aspes ma un passaggio di gestione che al momento non ha nulla di concreto sulla carta come ci spiegano le volontarie dell'associazione animale. Il nostro contratto, chiamiamolo col comune, scade il 30 di aprile e noi purtroppo non ci ripresenteremo per continuare la gestione del gattile perché purtroppo ci sono dei motivi che ci impediscono di fare tipo il discorso economico, questa è una struttura che non si può più basare sul volontariato, qui ci sarebbe bisogno di avere un dipendente almeno mezza giornata che gestisca non solo le pulizie e le cure del gattile ma anche il rapporto con l'esterno, cosa che non è possibile con la quota che ci dà il comune. Per cui abbiamo deciso a malincuore di non ripresentarci, il problema è che non sappiamo dal primo maggio che fine facciano questi gatti perché il nostro si conclude il 30 di aprile e dal primo di maggio questi gatti che fine fanno? Non abbiamo nessuna risposta dal comune nonostante le molteplici PEC che sono state fatte, i tentativi di incontri con i personaggi addetti a questa cosa, fino ad oggi noi non sappiamo ancora niente, non sappiamo cosa succederà dal primo di maggio a questi gatti in pratica e questa è una cosa che è veramente grave perché oltretutto è un gattile sanitario dove i gatti hanno bisogno di cure. La prospettiva era quella di un passaggio di gestione dal comune alla società Aspes S.p.A. però questo è un passaggio che di fatto sembra rimasto sulla parole? Sì, è rimasto così, sospeso perché da quello che sappiamo c'è una delibera con cui il comune passa la gestione di tutte le strutture ad Aspes però di fatto di scritto non c'è assolutamente niente. Per cui ancora si stanno rimpallando la cosa, il comune dice che passa l'Aspes, l'Aspes dice che non ha niente per cui siamo sospesi, siamo sospesi e a noi interessa il futuro di questi gatti. Come associazione noi comunque abbiamo intenzione di non abbandonarli, questo è ovvio, anche se ci sarà quando ci sarà una nuova gestione perché come associazione noi vogliamo continuare ad occuparci di loro come l'allattamento dei cuccioli perché per esempio adesso stanno per arrivare i valanghi di cuccioli da allattare che poi saranno ospitati nelle nostre case perché qui non è possibile, non c'è il posto e poi non è possibile anche mettere insieme a gatti adulti. Per cui noi ce li portiamo a casa, li allattiamo, li svezziamo e poi ci occupiamo delle adozioni che onestamente vanno tutte a buon fine, cioè da noi i gatti vanno via, ci sono persone che li adottano famiglie che hanno adottato gatti da vent'anni, ci chiamano, ci fanno vedere le fotografie dei loro gatti per cui insomma questa è una cosa che ci dà una grande soddisfazione come volontari. Però abbiamo bisogno di qualcuno che si faccia carico del lavoro manuale del gattile e quindi qualcuno che sia pagato perché i volontari durante la settimana lavorano e non è possibile tutte le mattine fare sei ore qui al gattile rinunciando al lavoro. Particolare, non indifferente, il vuoto gestionale non riguarderebbe soltanto Pesaro? No esatto, non riguarderebbe soltanto Pesaro perché comunque ci sono tre comuni della provincia di Pesaro che hanno stipulato una convenzione con il comune di Pesaro per avere dei posti a disposizione eventualmente per gatti loro con dei problemi. Per cui il 30 di aprile non scade solo la nostra convenzione ma anche quella di questi tre comuni che resterebbero a questo punto senza i nove posti che gli sono stati destinati. E dunque secondo le volontarie di Animalia per Aspes ancora non c'è nulla di concreto in questo passaggio. Si attendono risposte dal comune di Pesaro che ancora non arrivano. C'è anche la possibilità di una proroga ma al momento servono risposte perché il primo maggio si avvicina e dal primo di maggio l'associazione Animalia sarebbe fuori dal gattile ma bisogna dare un futuro a questa struttura.